Feb oggi battaglia in Consiglio regionale, portate questa maglia per protestare contro la chiusura di alcuni punti nascita negli ospedali abruzzesi. Assolutamente sì, è una rivendicazione sui territori giusti e legittimi, un problema che conosciamo perché è un problema che avevamo anche noi quando siamo stati al governo, un problema che conosciamo benissimo e come abbiamo resistito noi perché non c'è nessun obbligo di chiudere quei punti nascita. Ci sono due punti nascita, quello di Ortone e quello di Atri che sicuramente rispettano tutti i dettami della norma, c'è quello di Sulmona che è impensabile di chiuderlo per il territorio che copre così come quello di Penne, forse qualcuno di queste città non le conosce, così come abbiamo detto che sulla compartecipazione era un'invenzione tutta di questo governo regionale, tant'è che lo hanno fatto, hanno creato solo problemi e adesso hanno sospeso per sei mesi. Anche in questo caso non c'è nessuna necessità di chiudere punti d'eccellenza come i quattro che stiamo segnalando. Ecco perché oggi veniamo qui per cercare di far capire che è un problema veramente della comunità abruzzese a cui vengono tolti dei servizi. Avete dalla vostra parte ovviamente gli amministratori di queste città e tanti cittadini che si sentono penalizzati dall'eventuale chiusura di questi presidi. Immagini che chiuda il punto nascita di Ortona che fa circa 600 nascite. Io immagino che cosa succede a Chieti dove già stiamo al di fuori di ogni percentuale prevista per legge, che cosa succederebbe a Chieti o magari anche a Lanciano. Quindi ne chiudiamo uno per sfasciarne altri due. Credo che non sia giusto, peraltro abbiamo speso, abbiamo messo dei fondi importanti sull'ospedale di Ortona, su quello che è l'ospedale di eccellenza per la donna. Mi sembra veramente una contraddizione fare questo.